Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Paolo Marziali che mi chiede di parlare del film del 2023 diretto e interpretato da Paola Cortellesi c'è ancora Domani, film che ha fatto parlare tantissimo perché insomma è stato un incasso su stramilionario, è superato i 30 milioni di incasso, è superato Avatar 2, quindi un successo inaspettato, chiaramente la Cortellesi è uno dei personaggi più commerciali che abbiamo in Italia che quindi i suoi film è rarissimo che vadano male al cinema, comunque questa è stata un'esplosione veramente enorme che fa sempre piacere, in tutto perché è una donna regista che finalmente insomma riesce a dare un bello stacco in Italia un bel po', poi perché insomma gli argomenti trattati sono molto interessanti e perché insomma dava un po' di fiato al cinema italiano, questo è sicuramente da un po' d'aria, tutto il resto è da discutere, nel senso non ha niente a che vedere appunto con l'incasso, nella simpatia che posso vedere io per la Cortellesi che ce l'ho dai tempi dei tempi, quindi anche il nero ambientato appunto nel 1946 vicino al 2 giugno, vicino appunto al suffragio dove le donne andranno a votare insomma per la prima volta, la storia è quella di Delia, questa donna praticamente sposata da qualche decennio con Ivano, quest'uomo violento che la picchia e che ha praticamente tre figli, una ragazzina di 17 anni, si sta per fidanzare con un ragazzo bene diciamo così e due bambini che fanno un casino incredibile, è la storia della nostra praticamente che fa a fare 7500 lavori per recuperare due soldi e col marito che poi si prende chiaramente quando arriva a casa e che cerca di mettersi qualcosina da parte e che cosa succede poi, la storia è tutta qui in realtà è la storia della nostra che in un certo senso ci racconta la sua vita e tutte le angherie che subisce da questo Ivano, personaggio tra l'altro molto particolare e ben scritto con un ottimo Valerio Mastrandrea, così come la Cortellesi, niente da dire, resta bene la sua parte anche se secondo me c'è un pochino troppo sempre lei davanti allo schermo e si lasciano da parte un po' i personaggi di contorno che potevano essere anche interessanti ma sono lasciati un po' lì tranne forse l'amica Verduraia, sono un po' tutti però messi e un po' caricaturali, ma per il resto il film comunque al di là di una fotografia secondo me in bianche nero veramente orribile, quella è la cosa più brutta del film, bisogna dirlo subito, per me è assolutamente sbagliata, al di là del fatto che chiaramente il film risenta in un certo senso di tutti i problemi di un'opera prima, dura un po' troppo, ripeto un po' troppo davanti alla macchina da presa, un po' troppa voglia di raccontare tante cose e poi concentrarsi su una in particolare sarebbe stato meglio però insomma le istanze sono giustamente importanti perché la nostra vuole parlare appunto del maschilismo assoluto appunto degli anni 40 dove la donna doveva stare zitta e basta e non rompere i coglioni, è veramente terrificante, la nostra appunto racconta questo momento di transizione con il voto delle donne e lo fa attraverso appunto questo personaggio di Ivano e del padre che sono due personaggi orribili che non riescono assolutamente a farci empatizzare specialmente il vecchio incredibilmente mentre questo Ivano sembra quasi portato a dover fare quello che gli dice di fare la vita in un certo senso e trova la scusa appunto di aver fatto la due guerre mondiali che non vuol dire niente, l'hanno fatti tutti ma non per questo deve picchi alla moglie, un egoista, un uomo veramente orribile che è giusto e venga definito come tale che però in un certo senso ha i suoi sensi di colpa, ha quel senso di colpa particolare di un certo tipo di maschilismo che non si riesce a sradicare e che quindi lo rende più umano ma sicuramente meno colpevole e meno antipatico, questo è assolutamente in dubbio. La Cortesi è un personaggio che è un po' particolare, nel senso che è un po' bipolare, anche qui secondo me opera prima. Ogni tanto sembra una donna forte che riesce a farsi valere con le battute giuste nei momenti giusti però non si riesce a capire bene come mai non riesce proprio a muoversi davanti al padre. Il rapporto con Marcellina anche lì non è poi fatto così bene nonostante il personaggio Marcellina sia tutto sommato gradevole e il rimbalzo diciamo dell'aspettativa che la sua madre ha per lei è diciamo così un rimbalzo che la specchia e questo la mette veramente in terrore. È una regia comunque che a tratti riesce a essere interessante perché va detto che è la prima volta che lei prende le botte che è l'unica volta che ce lo fa vedere perché poi tiene quasi tutto in fuoricampo in pratica e viene questo ballo, questa danza assurda dove lei viene picchiata da Stasorotto che è anche comica e stempra però in un certo senso la violenza. Ma detto questo comunque il film funziona sotto il punto di vista appunto commerciale, è un film che parla di stanze che giustamente le donne portano avanti e che quindi ha portato tantissimo pubblico in quel senso. Lo fa però secondo me attraverso ogni tanto una retorica abbastanza insomma così così come nell'inizio, all'inizio in quattro terzi che poi diventa Renzi di Cignoni, poi quattro terzi che butta tutto un po' lì di da scalicamente, forse questo era l'interatto della regista ma secondo me si poteva allungare un po' di più insomma la condizione iniziale per farci arrivare a capire che cosa davvero succedeva in quella casa facendoci magari affezionare un po' a dei personaggi che però sono subito in un certo senso odiosi come appunto quello del marito o come quello dei due bambini che non sono minimamente spiegati, urlano, fanno casino e basta, forse appunto perché legati a loro essere maschi e quindi già colpevoli in un certo senso che però è un discorso un po' facilone. Poi per il resto il film è comunque una regia della nostra, ripeto è una regia da opera prima quindi riesce a fare delle cose molto pregevoli, sono due o tre cose veramente ben fatte e poi per il resto è una regia abbastanza avvisibile, abbastanza piatta che fa il suo. Era meglio asciugare un po', levare qualche dialogo e far parlare un po' di più le immagini almeno secondo il certo scritto. Solo che le immagini ripeto almeno secondo me il film bianche e nero le rende davvero brutte, al di là comunque di alcuni movimenti di macchina buoni, di una ricostruzione scenica che vorrei vedere. Per un film è tutto sommato sufficiente che si lascia guardare, non è assolutamente un problema, anzi i classici film che ce ne vorrebbe 500 l'anno in Italia in un certo senso, che erano la media dei film diciamo così che uscivano gradevoli, che si guardava negli anni 60, 70 così come tanti altri. C'è il problema dell'essere spropositato, cioè nel senso chi ha detto che è un capolavoro, è un grande film, è un film meraviglioso, secondo me non ha mai visto un film meraviglioso. Tutto quello che viene raccontato comunque è interessante, ma il colpo quello che dovrebbe essere di scena finale in realtà, almeno per me, è un po' telefonato e quindi tutto quello che viene nella costruzione ad arrivare lì diventa un po' forzata secondo me. Però ci sono personaggi come quello del meccanico, quello dell'amica che fa la fruttivendola, che è l'unica in realtà che ha un marito che sembrerebbe non picchiare, sembrerebbe essere l'unico uomo buono insieme al meccanico di tutto l'universo. Ha il suo difetto maggiore secondo me nel rapporto con il ragazzo di colore americano che non serviva assolutamente a niente in un certo senso e che è stato inserito proprio per fare una scena che è determinata che oltretutto sia nella più brutta del film e che non ha alcun senso all'interno di una pellicola che comunque ha un senso. Ha il senso di raccontare un qualcosa che appunto a molti uomini non va di sentirsi dire ma è la realtà dei fatti. La scena finale con tutte le donne che guardano Ivano è una bella scena, una scena che colpisce. La parte finale a pantomima con la figliola molto meno ma ripeto è un film un po' così, un po' bipolare che passa da movimenti in cui la narrazione sembra veramente fluida e ci sono una decina di minuti dove ti diverti, dove riesci ad entrare nei personaggi e poi dei momenti in cui il tutto sembra un attimino tirato proprio per i capelli ed è allungato un po' troppo. Ripeto, è un film che tutto sommato comunque riesce a raccontare qualcosa e in Italia è già un miracolo. Hanno già parlato di capolavoro, grande cinema, io ci andrei più piano. È un film che si lascia a vedere, è un film che ha, come ho detto, i suoi difetti, è troppo lungo, ogni tanto la recitazione scappa, ogni tanto scappa dalle mani una sceneggiatura un po' sciagurata come appunto nella parte della Miriana e della roba di Scoppia e ogni tanto però riesce in realtà a colpire nel segno, tutta la parte ripeto della danza è fantastica, ci sono dei momenti musical che funzionano, bisogna stare molto attenti perché a volte ci si avvicina al cattivo gusto, però insomma il film in pratica seppur nella sua piccola ruffianeria essere girato in bianco e nero da quel senso, vuole dare il senso del nearismo e ripeto il senso del realismo e del neorealismo va dato secondo l'ambiente nel 2024, se no quella è un'allegoria anche nei nostri tempi, non lo metto in dubbio, ma di neorealista il film non ha niente, se no una ricerca appunto di cercare di copiare e portare a casa qualcosa di quella estetica e secondo me è un errore, il film doveva essere più postmoderno per me. È un argomento molto interessante e per come è portato poi con quest'idea appunto delle donne che vanno a votare è anche diciamo così non banalizzato, quello che è banalizzato secondo me a un certo punto visto il finale e poi la costruzione del tutto che in realtà vuole essere quasi un McGuffin per nascondere qualcosa che comunque non era da nascondere, sono quei classici film come ho detto di via di mezzo che ce ne vorrebbe tantissimi, che fa un po' strano che abbia incassato così tanto ma nemmeno troppo visto che comunque la Cortellesi è quasi sempre un successo al Borteghino, ha preso le istanze giuste, è stato il momento giusto, un film anche un po' furbetto probabilmente non per forza da parte della Cortellesi ma parte appunto di una produzione che ha deciso proprio di farlo in questo momento andando sulla scia di una serie di film appunto che parlano del solito argomento e incredibilmente anche in Italia siamo riusciti a farlo e incredibilmente non siamo riusciti a farlo così brutto. Certo ripeto per me è un film che raggiunge la sufficienza, lo guardi, è un film che resta un po' lì del quale si parla veramente troppo, sembra che si stia parlando del nuovo una giornata particolare ma detto questo praticamente il film in un certo senso ha un suo perché, questo suo perché però insomma si spera sia portato avanti meglio dalle prossime opere da regista della nostra Cortellesi che le farà di sicuro visto quanto è incassato, riuscirà forse a mettere più a fuoco la sua messa in scena quindi a zeccare una bella fotografia, fare dei movimenti di macchina che ogni tanto prendano un pochino di più e cercare insomma anche di lasciare un po' più spazio ai comprimari che qui sembrano un po' stritolati dal suo ego. Questo è quello che penso io di un film comunque che ripeto ha incassato tantissimo ben per chi ha incassato e che secondo il sottoscritto comunque rimane un certo tipo di cinema medio ben fatto italiano che però insomma non merita tutto questo clamore a livello dico critico perché mi sembra insomma il solito filmetto anche ben fatto a tratti ma che insomma al di là di quello che dice e lo dice a volte anche molto bene non mi sembra vada oltre la sufficienza. Resta il fatto che comunque quello che vuol dire e quello che vuol raccontare sul quello che hanno subito e continuano a subire le donne è importantissimo e che sia raccontato così insomma è abbastanza nazionale popolare e forse anche meglio perché arriva molto a tantissime persone. Il problema resta sempre che comunque non la gente che va a vedere il film che sono spettatori che vogliono assolutamente vedere quello anche che gli piace e il film in quello è anche furbo ma è il problema ripeto da un'altra critica che continua a gridare comunque al capolavoro al miracolo. Se questo è un miracolo bisognerebbe sapere che cos'è un film di Elio Petri a un certo punto perché se questo è un capolavoro come si bisogna cambiare assolutamente il modo di valutare il cinema in Italia. Resta il fatto che il film nonostante te lo vogliano far venire sul cazzo a tutti i costi nonostante perché ci provano tutti i modi qualunque è un garbattute. Nonostante tutto questo rimane un esempio comunque di commedia italiana che è abbastanza solida per essere un'opera prima che però insomma racconta la cosa più interessante di come viene raccontata almeno io la penso così. Donate su Patreon, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie, iscrivetevi al canale, mi piace, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in Giro per l'Italia e ripeto c'è ancora domani, non è un brutto film, non è un bel film, è un film via di mezzo di quelli che ha delle cose positive e molte altre negative, sperando che la cortellesi migliori e soprattutto insomma sperando che anche il prossimo film incassi a bestia che così magari ritira un po' sulle sorti di un cinema italiano, non qualitativamente ma ripeto magari a livello di botteghino che soffre di brutto e quindi che dirvi di più c'è ancora domani, è un film che ripeto ha da dire delle cose, a volte le dice bene, a volte le dice male, a volte c'è un po' di retorica, a volte invece azzecca perfettamente ciò che è, qual è il punto. Quindi a voi insomma l'ultima parola per un film sicuramente secondo me sopravvalutato ma nemmeno così di merda come mi avevano detto insomma.